Questa mattina durante la mia pausa a caffè ho trovato questo fantastico video che ho deciso di condividere con voi. Chiedo alla regia di far partire subito le immagini che sono riferite alle cascate del mia gara viste da una prospettiva decisamente insolita. L'idea è venuta ad un utente di youtube il quale utilizzando il suo quadricottero radiocomandato dotato di videocamera gopro uno dei cosiddetti air drone è riuscito ad effettuare queste fantastiche riprese di una delle cascate più famose e spettacolari del pianeta. Chi osserva queste immagini ha quasi la sensazione di tuffarsi nelle cascate osservandole da una prospettiva decisamente inedita e suggestiva. Termino di commentarle a questo punto lascio a voi spazio alla vostra libera immaginazione. Continuate a seguirci su trebimeteo.com